ma torniamo al discorso del livello zero ho deciso di andare da una persona che l'ha toccato davvero con mano sì sì quello è il primo ricordo che ho io di tutto quel periodo che poi ci ha segnato in televisione in televisione sì sì ma non capivi chi era salvo liberi ma io che ne sapevo ho detto mamma ma che è successo mia madre dice è scoppiata la guerra mi dice questa cosa qua io lo sei ha detto ma che cosa non lo so sono un po sono un po anche purbato da questa visione di fare il mondo da rosa e fiori sono un po scettico un po dubbioso tu come la vedi allora se tu avessi 83 anni come me capiresti che qualcosa è cambiata c'è qualcosa di cambiato non voglio essere moralista arriva manifesta ben venga capitale della cultura ben venga però dobbiamo continuare anche noi